ok benvenuti ragazzi e questa seconda lezione mi piace quest'anno iniziare dicendo perché facciamo quello che facciamo piuttosto che seguire un percorso di oggi facciamo questo mi piace dire perché facciamo questo oggi cosa stiamo facendo stiamo parlando della traduzione di un programma perché mai è così importante la traduzione di un programma non possiamo fidarci semplicemente degli strumenti che ci sono a disposizione perché è necessario spiegarli così in dettaglio perché l'obiettivo di questo corso è di mettervi in grado di realizzare applicazioni complesse e questa è la parola chiave la complessità le applicazioni complesse non possono essere compilate con gli strumenti canonici a cui eravate abituati ovvero immagino che abbiate usato netbeams no eclipse dev c++ ok quegli strumenti sono tali che voi create un nuovo progetto un nuovo eseguibile aggiungete i file sorgenti uno a uno giusto li aggiungete come proprio file di progetto ok e l'ambiente di sviluppo si preoccupa per voi di far sì che tutto funzioni e alla fine tutto funziona però non vi siete mai posti il problema credo di interfacciarli con librerie con tante librerie anche librerie molto complesse di gigabyte gigabyte di spazio e questo accade quando si sviluppano applicazioni complesse è impensabile realizzare un'applicazione complessa tutta da soli senza utilizzare librerie esterne quindi da questo corso in avanti chi di voi proseguirà la magistrale userete sempre librerie probabilmente anche chi di voi andrà in altra università perché perché dovete crescere appunto come ingegneri i vecchi esercizi rimangono ormai nel vostro bagaglio ma si va avanti quindi perché facciamo questo facciamo questo perché ci serve uno strumento che è uno strumento che si usa a livello industriale per gestire progetti complessi anche con librerie complesse e molto grandi quindi quello che abbiamo visto l'altra volta penso sia abbastanza lampante che se l'applicazione è complessa non va più bene è facile capirlo l'altra volta abbiamo scritto un main che utilizzava una libreria una scritta da noi consisteva questa libreria di un file header di un file cpp ed era una libreria per compilarla in modalità statica dinamica ci abbiamo messo penso una buona mezz'ora è vero che abbiamo spiegato tante cose però è stata abbastanza tediosa la cosa ok quindi vorremmo uno strumento per automatizzare la traduzione del programma cioè anziché scrivere noi a queste righe di codice di queste righe di comandi crea la libreria in metti le cose una così una colì poi le librerie una cosa che non ho detto hanno le dipendenze se stesse cioè voi non potete se state usando 10 librerie forse una di queste librerie dipende da un'altra che dipende da un'altra non potete linkarle nell'ordine che vi pare c'è qui quando si fa questo linking non è un ordine casuale è un ordine preciso cioè se a dipende da b che dipende da c che dipende da ti si mettono in un certo ordine se me questo ordine lo sbagliate il link eppure non troverà i simboli il problema è saperlo questa cosa cioè come faccio a sapere che a dipende da b che dipende da c sono troppe cose che il programmatore dovrebbe dovrebbe conoscere quindi necessità di automatizzare tutto questo processo quindi problema ve lo sto spiegando come gestire molti file sorgenti molte librerie da collegare cioè come automatizzare il processo di traduzione di un programma complesso due opzioni opzione a quello che avete fatto fino adesso quindi continuate a fare come avete fatto create un progetto utilizzando l'ambiente di sviluppo net beans eclipse dev viso studio e inserite a manina tutte le sorgenti tutte le librerie con tutte le varie dipendenze con tutte di header significa che ragazzi per ogni libreria dovete aggiungere il percorso a jeder perché abbiamo visto l'altra volta che servono gli header per usare una libreria il percorso alla cartella dove ci sono i file di libreria e poi a mano dovete inserire tutti i file di libreria nell'ordine giusto però ci sono anche altre librerie quindi nell'ordine giusto considerano anche tutte le librerie e in tutto questo dovete anche fare inserire anche i vostri file sorgenti compilare sperare che vada tutto bene se le cose sono complesse non va tutto bene perché più sale la complessità è più elevata la probabilità che non tutto vada bene soluzione quindi molto difficile e non solo è dipendente dalla piattaforma hardware software cioè appunto voi scegliete un ambiente di sviluppo viso studio chi vi dice che quello vada bene per tutte le piattaforme sì è vero che la microsoft ultimamente ha fatto uno sforzo viso studio adesso c'è anche per il mac però fino a pochi anni fa non era così e comunque se scegliete un altro ambiente sì è vero che netbeams e eclipse ci stanno per tutte le piattaforme però comunque le impostazioni che voi decidete del progetto non è detto che vadano bene anche per altre piattaforme per esempio scegliete di compilare utilizzando un'architettura x64 e che ne sapete che il vostro progetto magari per qualche esigenza industriale non può andare su un processore a 64 bit vedete come è possibile tutti i computer ormai sono a 64 bit e che ne sai sulla lavatrice sei sicuro che è a 64 bit e processore siamo ingegneri non è detto che possiamo fare ipotesi ci sono processori ancora 16 bit in giro per il mondo che vengono usati nei dispositivi nei dispositivi embedded quindi non potete fare ipotesi così restrittive però dovete farlo perché dovete qua creare appunto un progetto sapendo tutto quello che c'è da sapere e se volesse distribuire il vostro codice voi avete fatto tutto sto grande lavoro ci avete messo giorni e giorni di configurazione e poi c'è il problema di distribuirlo a qualcuno questo questo codice o perché lo voglia mettere su github o perché volete distribuirlo alle vostre amici o dei colleghi siete in una industria abbastanza grande quindi c'è una collaborazione tra più gruppi che fate i passati file di progetto quindi gli passate la cartella preso di visual studio con tutti con tutti anche i file di progetto non sto parlando dei sorgenti file di progetto cosa sono i file di progetto andiamo a vedere per curiosità se io vado ad aprire una una cartella di progetto di visual studio per esempio una dove ho compilato poco fa super mario mi trovo una cosa del genere dove ci sta un file sln che io so uno bisogna aver studiato che nel caso di visual studio questo si chiama solution cioè è il contenitore principale del progetto doppio clic qui funziona questo è un progetto una soluzione può avere più progetti però uno deve aver studiato come funziona viso studio per sapere tutto questo cosa sono queste cose sdf questo è un database avete fatto base di dati questo è un database che serve per memorizzare tutte quelle scorciatoie che l'altra volta pure abbiamo visto io apro un namespace e mi dà la lista come fa a saperlo se l'è memorizzato ha fatto una scansione delle librerie che sto usando e li ha messi in un database locale e poi ragazze ci sono tante altre cose tante altre cartelle cartelle temporanee dove vengono messi i file oggetto i file libreria e alla fine da qualche parte dovrebbe apparire questo fantomatico eseguibile ma dove cavolo sta manco io lo so eccolo qua c'è l'eseguibile 11 mila byte doppio clic e posso giocare ok ma voi che fate quando passate il progetto a qualcuno gli passate tutta questa cartella prima che funzioni ce ne vuole innanzitutto deve avere lo stesso viso studio la stessa sistema operativo la stessa piattaforma hardware in più dovete sperare che vada tutto bene che le librerie le trovi perché questo è configurato per prendere le librerie in un determinato percorso del sistema e magari ci lib pippo libreria che ne sapete che voi lo date a vostro collega c'è la libreria in quello stesso percorso dovete dargli anche le istruzioni guarda signor pippo metti le librerie in questo percorso e forse ti funzionerà a vi sembra accettabile in un contesto industriale industriale una soluzione di questo tipo assolutamente non è accettabile quindi va da sé che il metodo che avete usato fino ad ora andava bene ai scopi didattici ma non va bene per scopi industriali quindi no sbarrare questa opzione opzione b crea una descrizione testuale ad alto livello del progetto a partire dalla quale un opportuno strumento genera i file di progetto per una determinata piattaforma che significa questa frase che anziché creare un progetto concreto utilizzando un ambiente di sviluppo crea una descrizione del progetto è diverso da creare un progetto da questa descrizione testuale un file di testo per esempio un file di testo che dice il mio progetto si chiama così è fatto di questi file sorgenti e dipende da queste librerie dove non specifico il file di libreria dico proprio questo dipende da qt dipende da qt in generale senza dire qt 5 qt che ne so dipende da qt che si trova questo percorso noi in generale proprio quindi una descrizione ad alto livello significa come se lo stessi parlando io come se lo stessi descrivendo in un file word bene questo sarebbe molto meglio dell'opzione a perché mi consentirebbe di fare una descrizione una tantum e distribuire questo agli altri così che poi ognuno si genera il proprio progetto in locale questa cosa è stata fatta è stata fatta da tanto tempo più di vent'anni trent'anni è una cosa che esiste ok però lo strumento non è uno strumento ottimale lo strumento di cui parlo è una suite in realtà di strumenti che si chiama auto tools auto tools comprende una collezione di strumenti che attraverso una serie di descrizioni testuali del progetto come vi ho detto genera poi quello che è un file che si chiama make file che contiene tutte le istruzioni di compilazione per poter compilare il progetto cioè bisogna scrivere una serie di file in linguaggi anche molto difficili tra di loro bisogna necessario imparare bone shell vabbè quello si impara per altri motivi se sei sistemisti m4 altri linguaggi che non sono linguaggi di programmazione sono linguaggi di descrizione del progetto e sono tanti sono diversi e il flusso che porta dalla descrizione del progetto alla compilazione quella eseguibile questo è un flusso molto complicato ragazzi in cui questo è il motivo per cui almeno quando ero più giovane andava di moda farsi farsi impavoleggiarsi con gli amici dicendo io non solo so usare linux ma so anche compilare i programmi su linux che significa compilare in quel caso i primi linux non avevano questa grande diciamo non venivano equipaggiati con tutti i programmi già installati è una mente diverso da windows in cui non si danno gli seguibili installer tipicamente su linux la mentalità è quella sempre open open source quindi si danno i sorgenti e quindi su linux la tendenza adesso con ubuntu la cosa con con i manager dei pacchetti la cosa è andata un po avviene ancora ma viene dietro le quinte prima bisognava farlo manualmente l'utente doveva scaricarsi un programma insorgente questi sorgenti contenevano anche le descrizioni testuali del progetto quindi contenevano dei file configure che serve per verificare le dipendenze se sono supportate le funzionalità richieste da quel programma è un file di descrizione del un file di descrizione del del progetto questo make file punto am poi cosa doveva fare queste sono forse qualcuno di voi ancora oggi fa questo quindi si scaricavano i pacchetti sorgenti e se andava nella cartella dei sorgenti con tutte queste descrizioni testuali già presenti si lanciava il contigo che serviva per verificare che tutto può procedere per il meglio il make che significa compila però questo make significa invocare tutta una serie di istruzioni tipo quelle che abbiamo visto l'altra volta che è la libreria link alla libreria i file oggetto le dipendenze in quest'ordine avviene tutto con un solo comando e poi manchi stall serve per spostare i file compilati in una cartella di destinazione sul sistema per esempio user local su linux su windows ci programmi perché dico su windows perché esiste uno strumento simile anche per windows non sono non sono gli auto tools della gru però sono molto simili e fanno una cosa molto simile perché questo non va bene non lo dico io è considerato un anti pattern nella 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 insomma nel campo della progettazione software perché non risolve problemi di portabilità io ho detto prima sarebbe bello che io do questo a tizio tizio usa un sistema diverso dal mio tizio riesce a compilare e ma se tizio usa windows queste questo sistema auto tools va bene per tutti linux quindi va bene tutte le distribuzioni linux su unix nei però è fatto anche per unix su windows bisogna passare ai ai n make che sono quelli per windows però non è portabile complica la vita lo sviluppatore perché non solo dobbiamo imparare a programmare è già non è facile ma dobbiamo anche imparare i linguaggi di meta descrizione dei progetti cioè per camisa bisogna imparare non uno ma una serie di linguaggi per descrivere il progetto così poi così che poi lo possiamo distribuire e su windows l'ho già detto non è portabile però si possono certamente installare degli degli emulatori di ambiente unix come sagwin min gv invece non è un emulatore è una suite di compilatori gru per windows quindi sono proprio e porting si direbbe in gergo videoludico il porting dei gru tools in windows segwin non è un porting è proprio un'emulazione dell'ambiente unix sono due cose molto diverse sagwin min gv tra l'altro credo che voi forse avete fatto l'esame di non lo so qualcuno di voi si è fatto l'esame di fondamenti con tortorella a suo tempo nessuno siete tutti i giovani però si faceva mi pare si faceva su netbeams collegato a min gv quindi in quel momento si sta usando un compilatore gru su windows però avete eclipse eclipse scusate però comunque avete usato min gv quindi stavate usando un compilatore gru però su windows il porting su windows le dipendenze vanno testate a basso livello che significa che chi scrive queste descrizioni di testo queste descrizioni di progetti deve saperne veramente tantissimo deve scrivere deve sapere che il proprio applicativo ha bisogno di determinate funzionalità per esempio ho bisogno dei thread o adesso non sapete ancora cosa sono i thread forse l'avete sentito parlare i thread servono nella programmazione concorrente e anche nella programmazione grafica e quindi bisognava scrivere io ho bisogno dei thread ovviamente non così il linguaggio metadescrittivo ho bisogno degli interi a 64 bit ho bisogno degli interi a 64 bit o ragazzi due scatole cioè voglio dire per ogni cosa di cui non ha bisogno uno deve scrivere ho bisogno infatti questi questo flusso è molto molto complesso e questi file sono molto difficili da scrivere tant'è che sono proni a bug ed è strano guardate come il programmatore si morde la coda non solo noi abbiamo i bug del programma ma adesso abbiamo pure i bug del descrittore del programma del progetto e quindi addirittura il bug parte prima ancora di compilare il progetto è un bug del progetto proprio quindi no ci sono stati altri strumenti che sono stati suggeriti sono stati insomma hanno tentato di soppiantare gli auto tools ma la verità che nessuno si è riuscito tranne uno da cosa velo da cosa si vede la cosa si capisce che che è cambiato qualcosa e quando è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa tra il 2007 e 2009 in cui quello che vedete qui è un grafico preso da google trends cos'è google trends è uno dei tanti strumenti di google che voi cercate una parola chiave o insieme di parole vi dice l'andamento nel tempo la moda insomma come va la diffusione la popolarità di quello strumento questi due queste due curve rosso e giallo sono gli auto tools questi sono gli altri questi tre che vi ho fatto vedere qui e ce n'è un azzurro che penso sia abbastanza lampante che sorpassa tutti gli altri cioè mentre gli altri scemano è praticamente arrivati ormai nel 2020 stiamo parlando di obsolescenza cioè se voi trovate adesso uno un pacchetto software applicativo ovviamente stiamo parlando di traduzione di programmi quindi i sorgenti ci devono stare altrimenti uno distribuisce binari quindi comunque stiamo parlando di open source open source non significa gratis attenzione open source significa se c'è una licenza commerciale che uno ha accesso ai sorgenti per personalizzare le proprie esigenze e poi però deve pagare io oppure ho rilasciato dei software in open source con licenza gratuita per la ricerca a pagamento per l'industria perché l'industria poi ci fa profitto la ricerca no quindi non è detto che open source sia gratis ci sono varie licenze gpl insomma varie varie licenze ora queste curve arrivate a questo punto significa che ormai sono obsoleti però si possono ancora trovare in un post escludere che voi andate a lavorare in azienda e vi dicono guarda devi usare questa questo strumento qui noi lavoriamo in luni in linux usa questo strumento qui e voi lo trovate dentro ci sono ci sono i make file ma il rifiuto categoricamente di usare questo strumento ovviamente le licenze nel pronco quindi non è che vi sto dicendo che voi dovete rifiutarvi di usare questo strumento che sta scemando quindi piano in piano non esisterà più però ci vuole molto tempo nell'informatica ci vuole decenni prima che qualcosa sparisca del tutto pensate che esiste ancora un programma oggi mamma mia avevo scritto una risposta su quale su questo non ricordo il nome del esiste un programma che usa il ministero dell'economia statunitense per far conti insomma che è stato programmato negli anni 50 è un compilato degli anni 50 che però non sostituiscono perché hanno paura che siccome quello è funziona benissimo senza bug hanno paura che sostituendolo se c'è un bug saltano miliardi di dollari quindi vogliono rischiare questo per devi anche nelle banche si usa questo approccio il vecchio piace perché vecchio significa sicuro testato senza bug quindi lungi da me dire che non esistono più sono in diminuzione e invece ovviamente sempre più usato lo strumento che si chiama cmc cmc sta per cross platform make cross platform significa attraverso le piattaforme quindi uno strumento che promette di generare progetti compilabili per qualunque piattaforma hardware software che significa hardware software significa io c'ho mac tu c'hai pc 2 a linux l'altro c'ha windows hardware software oppure che ne so il sistema operativo linux embedded che magari gira sulla lavatrice quindi c'ho l'architettura del processore che sta sulla scheda integrata della lavatrice e magari c'è un sistema operativo non è detto è il sistema operativo si usa e comunque linux embedded è abbastanza leggero però non è detto che una lavatrice lo usi non potrebbe non avere bisogno di un sistema operativo invece software per la domotica credo di sì nelle smart home sicuramente devono avere un sistema operativo che devono fare cose in parallelo in multitasking quindi c'è bisogno di un sistema operativo e quindi la promessa di avere uno strumento che riesce a fare questo in maniera più semplice possibile perché abbiamo capito che gli autotools non sono non sono portabili ma sono complessi ok ora questo strumento si basa su file di testo come gli autotools però sono pochi i file di testo e sono scritti in un linguaggio che è stato progettato a tavolino per essere più semplice possibile descrivono delle entità quindi io dico esistono questi sorgenti ho bisogno di queste librerie il mio progetto creerà questi eseguibili anche più di uno potrebbe potrebbe essere un progetto molto grande che crea anche più di un eseguibile e posso dividere il mio progetto in moduli perché un modulo fa questo un modulo fa quest'altro e quindi questo è quello che fa il il descrittore di file descrive i moduli descrive le entità e un'altra cosa carina che fa che fa questo cmake cosa che non fa invece l'autotools è la cosiddetta build out of source che significa significa che finalmente almeno per chi è amante dell'ordine come me come tanti programmatori che sono ovviamente un po tarati su questo c'è una netta separazione tra i file sorgenti e la cartella di progetto e in effetti se voi notate bene questo progetto che io vi sto facendo vedere di super mario c'è qualcosa che manca qua dentro ci sono un sacco di file di progetto ma i sorgenti non ci sono non guardate questo cpp questo non è un sorgente mio sorgente temporaneo generato dal dal sistema ragazzi non c'è nessuna cartella src sus non ci sono i sorgenti e dove sono i sorgenti di questo di questo progetto indovinate un po dove sono nella cartella di questo corso quindi google drive classroom tecniche di programmazione modulo b e sempos super mario io so che questa perché preventivamente li ho collegati tramite c make guardate quanto è ordinata questa cartella tutti sorgenti una cartella di suoni una cartella di grafiche quindi sprites poi diremo un giorno che sono le sprites immagini background eccetera mi pare molto ordinato mentre la cartella del progetto non è ordinata ma a me che me ne frega se io ho separato i file di sorgenti e il file di progetto adesso io posso distribuire i miei file sorgenti senza distribuire file di progetto perché questi vengono generati dallo strumento c make qui tutta questa schifezza qui non la devo dare a nessuno è mia è solo mia la vedo solo io ed è giusto così perché fa schifo la genero localmente e i sorgenti rimangono da dove stanno quindi quando io apro il mio progetto super mario 3 nonostante io stia aprendo un progetto che sta effettivamente in questa cartella scusate un progetto che sta effettivamente in questa cartella era equivalente che avessi cliccato doppio clic qui se io vado su un sorgente e chiedo in che percorso si trova guardate a che percorso si trova quel sorgente quindi vedete la separazione i file di progetto stanno in una cartella i sorgenti stanno in un'altra cartella uno dice vabbè al di là di accontentare i maniaci dell'ordine qual è il vero scopo di questa cosa il vero scopo è che adesso voi potete data una sorgente una cartella di sorgenti a questa cartella potete connettere n progetti uno in viso studio uno in eclipse mingv uno in code blocks che ne so su mac os come si chiama xcode via dicendo quello che vi pare quindi guardate adesso che sta per succedere siccome adesso i sorgenti sono puliti e a più a un a una sorgente io connetto n progetti adesso i sorgenti dove vanno a finire secondo voi è giusto che stiano in locale oppure possono finalmente andare su quello che va di moda oggi il cloud ecco che adesso torna viene in voga viene in aiuto il cloud i sorgenti li metto in cloud che significa in cloud google drive dropbox github repository pensati per il versionamento certo i sorgenti metterli su drive ora nel corso io lo faccio ma i sorgenti andrebbero su strumenti come github che perché perché consentono di andare indietro nel tempo quindi voi ogni volta che fate la modifica avete la possibilità poi se ci ripensate di tornare che ne so ho scoperto che era meglio il software di un anno fa è andato indietro nel tempo un po come avere il recupero la funzione di recupero di windows è una macchina del tempo ok e poi avete molti altri strumenti quindi i sorgenti vanno su cloud e a questo punto siamo un team di 4 4 ragazzi 4 studenti e però ognuno di noi lavora da casa perché siamo nera covid come facciamo a lavorare sui stessi sorgenti e qual è il problema stanno su cloud io in locale genero un progetto mio che si attacca a quei sorgenti tu generi un progetto tuo che si attacco a quegli stessi sorgenti e quando io faccio una modifica questa modifica se io voglio devo dare l'ok perché il cloud così funziona se google drive è un automatico se github bisogna fare un commit questa modifica si ripercuote anche su tutti gli altri afferenti al progetto ed è così che si collabora la verità oggi chi lavora in informatica e fa applicazioni software lavora in gruppo così c'è un repository unificato e poi ci sono n sviluppatori per esempio io su github afferisco a ci sono alcuni miei progetti personali in cui insomma sono io e me la canto me la suono dove sono i miei repository questi sono i miei ok meno che non mi abbiano cacciato io dovrei partecipare a qualcosa un software molto complesso che si chiama 4d people no c'è qualcosa che non va non possono essere solo due so per certo vabbè comunque a un progetto possono afferire n sviluppatori utilizzando questo strumento di c make quindi ricapitoliamo ho una cartella con i sorgenti i sorgenti e non file di progetto però adesso accanto a questi sorgenti devo inserire comunque una descrizione progettuale se no il miracolo come fa ad avvenire da solo ho bisogno di i cosiddetti si make list che cosa sono sono dei scrittori testuali semplici di progetto e ce ne sta uno per ogni cartella in particolare quello che si trova ad una gerarchia più elevata c'è nella cartella contenitore contenitrice dice come è fatto tutto il progetto dice come si chiama il progetto quanti sono i moduli e ciascuno di questi moduli deve dire ora vedremo come io sono a libreria oppure questa per esempio una libreria io sono un eseguibile e ho bisogno di questa libreria quindi primo passo è scrivergli queste questi file di dichiarazione questi file di descrizione poi bisogna usare uno strumento ora vediamo come uno strumento che si può usare da riga di comando o graficamente con un'interfaccia in cui bisogna indicare ma ora vediamo dove sono i sorgenti dove vuoi costruire il progetto che tipo di progetto vuoi lo vuoi visual studio quale visual studio 2019 che architettura 64 bit che vuoi link statico link dinamico vi fa una serie di domande ci sono delle opzioni predefinite voi potete anche andare dritto per dritto però sono tutte quelle cose che vi consentono di personalizzare la traduzione del programma secondo le vostre esigenze e poi verrà generato il progetto che ne so verrà generato il file di soluzione per visio studio oppure il mac file per per mac os o il mac file per linux che non sono proprio hanno lo stesso linguaggio però è difficile che un mac file che contiene una lista di istruzioni di compilazione funzioni sono è quasi impossibile che funzioni sia interscambiabile tra i due sistemi facciamo subito adesso un test una prova all'intanto vediamo come si presenta questa interfaccia grafica cme che quindi uno strumento leggerissimo di penso 2 megabyte 3 megabyte lo scaricate in batter d'occhio e si presenta anche con un'interfaccia semplice quindi per esempio adesso noi lo invochiamo su linux però io prima dell'inizio della lezione l'ho invocato su windows con le medesime insomma non ho avuto difficoltà ecco la interfaccia grafica è la stessa quindi adesso già c'è qualcosa perché questo è la storia di quello che ho fatto l'ultima volta però partiamo da zero quindi desktop ancora non so dove mettere le cose però sono sicuro che adesso voglio andare in home google drive vabbè facciamo prima a usare questo google drive classroom tecniche di programmazione modulo a perché dobbiamo andare a fare l'hello world con cmake ricordate l'altro esempio dell'altra volta l'hello world per librerie questo sarà l'hello world per librerie usando la traduzione automatica e non tutte quelle righe ar ma che ar chi si ricorda più io non mi ricordo più poi vi ricordate le opzioni ar xvf è normale come si sbaglia è impossibile ricordare quelle cose quindi c'è una cartella cmake che contiene l'hello world con cmake e quindi bisogna selezionare la cartella di sorgenti e poi bisogna dire dove andare a costruire il progetto per esempio cmake hello world io scrivo build è un'abitudine di distinguere sorgenti da progetto il progetto tipicamente build significa è una build cioè lì dove andremo a fare la costruzione dell'applicativo nella slide è scritto che bisogna poi premere configure se la directory di destinazione non esiste bisogna crearla e questo è il momento in cui si decide quale progetto vuoi e quindi c'è un menu tendina che dipende dalla piattaforma in cui mi trovo ovviamente se si sto su linux ma che posso mai generare un progetto di viso studio con i compilatori di microsoft forse sia adesso proprio adesso però in generale no quindi cosa posso fare qua io sto su linux ubuntu che posso fare posso generare un progetto k develop perché ci sta k develop posso generare un progetto code blocks perché ciò code blocks ciò eclipse e quindi posso generare un po di roba però siccome sono pigro e non mi va di usare un ambiente di sviluppo genero in me che fai proprio quello della dell'auto tools perché perché così basterà compilare lanciando un comando make bellissimo entro nella cartella scrivo me che premio invio e compila è più veloce dell'ambiente di sviluppo molto più veloce perché non c'è grafica non c'è niente quindi insomma ricordo dei vecchi tempi lo seleziono e premo finish ora cosa è appena successo lo strumento c make ha controllato che tutto sia in linea pronto per la generazione in particolare ha controllato che ci sta il compilatore ha spulciato dentro i file sorgenti e ha visto che non uso chissà quali strane funzionalità del linguaggio e quindi ha detto ok per me va tutto bene anzi ti dico pure dove dove andrò a installare la tua applicazione se tu sei d'accordo la metterò in user local altrimenti dimmi dove metterla tu perché chiaramente lo devi dire altrimenti lascia il predefinito e in più c'è un'opzione shared libs è un flag booleano quindi io immagino penso anche voi che se lo spunto verranno creato verrà creato un link dinamico condiviso shared se invece lo lascio disattivato il linking sarà statico lasciamolo così come quindi non facciamo nulla configuring dan significa che è andato tutto bene generating dan significa che sono stati generati i file di progetto e in effetti se andiamo adesso nella cartella si make lo world build vediamo che sono stati creati una serie di cartelle e di file ma noi non interessa davvero capire che roba c'è qua dentro non ci interessa ci interessa solamente che ci sia il file di progetto che noi possiamo aprire se fossimo su windows se stiamo su su linux abbiamo scelto make file se avessimo scelto k develop potevamo non dico fare doppio clic però sicuramente aprire il progetto da k develop o da code blocks qui dobbiamo andare noi apriamo una nuova shell dei comandi andiamo in si make load ok e lanciamo il nostro comando make e vediamo se tutto va quanto ci ha messo niente quanto è stato complesso niente perché c'era già una descrizione del progetto e la sua descrizione va bene per tutte le piattaforme quindi la stessa cosa mi aspetto che avvenga anche su windows su windows in aspetto un procedimento simile non a riga di comando dovrò usare visual studio però mi aspetto un procedimento simile funziona e dove l'ha messo l'eseguibile penso l'avrà messo nella cartella client sì c'è un eseguibile lo eseguiamo è scritto hello from libfu quindi hello world static library c'è scritto questa informazione in più in realtà non è una magia non è che lui sia accorto che poi vediamo lo spieghiamo a breve perché appare questa dicitura static library per adesso concentriamoci sull'utilizzo di c make proviamolo su windows quindi vabbè insomma qua c'è la spiegazione però adesso lo stiamo facendo poi magari facciamo un ripasso quindi apriamo il nostro c make anche su windows grafica è esattamente la stessa dobbiamo ovviamente andare a prendere i sorgenti che stanno in modulo a c make c make hello world una cosa da cosa dire dov'è che come facciamo ad accorgersi che dobbiamo selezionare quella cartella e non quella dentro e quella fuori questo è bene spiegarlo un attimo meglio è quella dove si trova il primo c make list quindi ditemi voi quando mi devo fermare ecco qua vado avanti sì o no sì o no vado avanti no questa è la cartella padre o madre dove si trova la radice dove si trova il c make list quindi e quindi questa quella che ho selezionato in c make e quindi va bene c make make hello world build configure la directory non esiste la posso creare ma certo cosa vuoi generare e beh io adesso qua io sto su windows questo windows vecchio ne ho uno nuovo con i viso studio più recenti io su questo windows ho viso studio 2012 e quindi genero viso studio 2012 però se voi avete viso studio 2019 dovete selezionare viso studio 2019 ok anzi poi lo facciamo pure adesso lo apro l'altro viso studio perché vi faccio vedere che i c make più moderni hanno una differenza rispetto a questo che ho qui installato piccola differenza mazza proprio ha sbarallato direttamente perché non gli è piaciuto questo sbagliato ci sta ecco che errore può succedere il source directory does not exist e devo aver fatto casino allora boh non lo so che cosa ho fatto adesso funziona non l'avevo selezionata correttamente guardate quante cose ha fatto qua detecting c compiler abinfo dan detecting c compiler features check for working c c++ compiler cioè è andato a cercare se davvero esiste il compilatore di visual studio tu mi hai detto general per visual studio 2012 ma chi dice che esista lui è andato a cercarlo e ha trovato questo è l'equivalente del gpp in visual studio è il compilatore di microsoft visual studio 2012 però la versione del compilatore è 11 per architettura per architettura x86 64 anche qui lasciamo tutto uguale facciamo generate siccome questo non è un make file ma è proprio un file di progetto possiamo addirittura aprirlo direttamente oppure saremo potuti andare equivalentemente nella cartella si me che lo word build e guardate quanta schifezza c'è qua dentro un sacco di roba avrei dovuto cliccare sul file punto cln che sta per solution ora una volta che sto in visual studio visual studio è un ambiente di sviluppo quindi un po più di complessità rispetto al make c'è mentre nel make file bastava che facessi make è nato tutto qua devo dire ma qual è il progetto principale che tu vuoi eseguire perché in un in un progetto grande ci possono essere tanti seguibili e l'ambiente di sviluppo qui vuole sapere qual è quello che tu vuoi selezionare come quello principale quindi bisogna cliccare sul progetto principale selezionarlo come progetto principale seta start up project in italiano è seleziona come progetto principale una cosa del genere e ok basta niente di che adesso poi vi spieghiamo cosa sono tutte le altre e tutte le altre voci questo adesso lo possiamo compilare la compilazione è stata veloce era più veloce l'altra possiamo eseguirlo e hello from static library ok quindi stesso sorgente stessa descrizione del progetto linux windows che sono due mondi ovviamente molto diversi ora non stiamo a farlo anche sul mac che dite no a parte che su me che genererei comunque genererei un progetto xcode volete vederlo sul mac no magari quando facciamo cose più carine grafiche è carino vedere come appaiono sul mac perché c'è una libreria particolare per la grafica bene andiamo avanti adesso quindi abbiamo visto come utilizzare questo programma ma diamo adesso dei warning ok un po ripercorriamo quello che abbiamo fatto però con un occhio attento a quello che può succedere di brutto la cartella di destinazione è meglio che sia diversa dalla cartella sorgenti cioè noi l'abbiamo fatto però è una cosa che magari la prima volta è capitato nei vari anni che qualcuno non lo facesse cioè se io ho detto che lo scopo dice me che vi separa i sorgenti dal progetto devono essere due cartelle diverse possono essere anche la stessa però state rinunciando ai benefici del c make cioè mischiate sorgenti con con progetto può fare potete fare però poi che succede se dovete darlo a qualcuno se dovete darlo al me il progetto che mi date ti mettete a manina a selezionare i sorgenti e siccome ci sono anche i sorgenti generati dalla compilazione come distinguete i vostri sorgenti dai meta sorgenti non ha molto senso quindi tenetele separate una ospiterà i file di progetto file solution di visual studio make file i compilati object eccetera e l'altra ospiterà i sorgenti attenzione pensate al matrimonio sarà per sempre collegata alla cartella sorgenti questo è fonte del 50 per cento dei problemi dei studenti questo mi compilava non mi compila più che è successo la prima cosa che chiedo è ma per caso hai spostato qualcosa hai spostato la cartella dei sorgenti o l'hai solo rinominata per esempio si presso lo spostate che fa fa perché nel momento in cui voi avete avete creato questo progetto lo avete collegato per sempre a quella cartella dei sorgenti se voi spostate la cartella dei sorgenti non li trova più perché pensava fossero in un punto e ora stanno in un altro abbastanza i computer sono scemi se i gammi una cosa vanno in tilt no sono molto molto precisi sono programmati appunto quindi non me lo fate fare il tentativo vi fidate che se volete lo faccio se adesso spostassi la cartella anzi donna rinomino solamente guardate dove sta la cartella di modula c make questo eccolo qua c make l'award ciao rinominata in maniera molto ingenua riapro il progetto e mi aspetto che tutto funzioni effettivamente progetto si carica quindi non c'è niente di strano vado a compilare aia the source directory la 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 does not exist beh lo dice pure quindi però non è magari uno si mette un vicepresso ci sono troppi errori io non sono scoraggiato non voglio non so che è successo è successo che si è disaccoppiato il progetto dei sorgenti come si risolve la cosa ovviamente rimettendo tutto a posto suo e niente ombrello ce l'avete vista casa ha risolto già in partenza il problema questo consente di generare progetti diversi collegati alla stessa cartella di sorgenti abbiamo già detto una cartella di sorgenti n sviluppatori con n anzi addirittura io che sono uno sviluppatore a volte siccome voglio che il progetto funzioni su tutte le piazzaforme c'ho un progetto su mac os uno su linux e uno su windows anzi più di un windows quindi in realtà a volte c'ho 45 progetti che insistono sulla stessa radice sorgenti sulla stessa applicazione consorgetti bene vabbè passo 2 selezionare generatore questo abbiamo l'abbiamo già detto passo 3 il config l'abbiamo già fatto il momento in cui dobbiamo selezionare delle opzioni passo 4 è il generate in cui vengono creati i file di progetto e abbiamo abbiamo di fatto questo abbiamo già fatto alcune note una cosa che mi chiedo spesso ai studenti ok tu ci hai promesso di semplificare il processo però adesso a me pare che questa cosa sia stata abbastanza lunga ma la dovete fare una volta sola ecco la novità e se devo aggiungere nuovi sorgenti tipicamente quello che succede è che il motivo per cui non c'è soltanto questo progetto non c'è soltanto questo progetto client ma ci sono anche altri meta progetti install e package lo spiegheremo a breve c'è un progetto su viso studio zero check c'è anche nel corrispondente di altre piattaforme c make tender cerca di semplificarvi la vita quindi 66 il descrittore di progetto scritto bene se ci sono dei nuovi file di progetto scusate di nuovi file sorgenti li trova e li aggiungi in automatico al progetto se avete scritto bene ma una cosa che sicuramente non dovete fare non ragazzi questo lo metto in grassetto non anzi lo metto in rosso e non so che fare più di così non aggiungete i sorgenti dallo dallo strumento di dall'ambiente di sviluppo perché rispondetemi che succede secondo voi se io adesso aggiungo qui aggiungo una nuova classe aggiungo un nuovo aggiungo un nuovo file cpp secondo voi dove lo mette nella cartella dei sorgenti o nella cartella del progetto nella cartella del progetto e quindi ho alcuni sorgenti nella cartella sorgenti e quelli che io aggiunto nella cartella del progetto e poi voi mi date la cartella di sorgenti io non compilo perché mancano dei sorgenti e voi quei sorgenti ce fate in saccoccia dentro la cartella del progetto non lo fatti non si fa quindi non funziona così quindi se dovete aggiungere un sorgente lo aggiungete alla cartella dei sorgenti e se il cimè che non se ne accorge da solo che significa se l'ambiente di sviluppo non se ne accorge da solo non lo vedete che compare da solo riavviando l'ambiente di sviluppo dovete soltanto richiamare il cimè e siccome già è tutto già preimpostato è preimpostato per ciascuno dei progetti quindi se adesso vado ad un altro progetto è già tutto impostato dovete solo rifare generet dovete premere un pulsante ok quindi niente di eccezionale se non avviene da solo la stessa cosa se modificate che ho fatto sono tornati indietro scusate se modificate la stessa cosa avviene se modificate il cimè che list che ora vediamo come sono scritti se modificate cimè che list significa che avete cambiato la descrizione del progetto che significa avete cambiata ho aggiunto un altro eseguibile ho reso una libreria dinamica o statica insomma avete fatto quello avete fatto anche in questo caso dovrebbe avvenire tutto in maniera automatica se non avviene premetto di nuovo genere ok adesso passiamo a cosa c'è dentro questi cimè che list ora potreste voi chiedervi ma dovete voi imparare voi in questo corso questo nuovo linguaggio che però permettetemi di dire che davvero si presenta come un linguaggio molto semplice crea un progetto progetto paretesi tonde nome del progetto ho bisogno di raccogliere tutti i file sorgenti che ci stanno in questa cartella file quindi quanti quali file ci sono in questo progetto file parentesi tonde globe globe è un comando che si trova anche in tutti gli altri framework globe significa p e li tutti tutti quelli che finiscono per cpp per h e per hpp e li metti in una lista però non è che ho scritto lista questo vedete non è un linguaggio di programmazione mette lì in una cosa che si chiama client source poi crea un eseguibile che chiamo client potevo chiamare come impareva questo eseguibile però va creato in base deve essere compilato a partire da alcuni sorgenti quali sorgenti quelli che si trovano dentro questa lista quindi il valore di questo di questo contenuto il contenuto di questo oggetto il contenuto è in stile php per chi vuoi ha visto php e dollaro parentesi graffe dollaro parentesi graffe il contenuto di questo da solo è l'equivalente di scrivere g più più meno c sorgente 1 sorgente 2 fino a sorgente n e questo crea e fai l'oggetto g più più meno fai l'oggetto sono tutte quelle righe di codice di programmi che abbiamo visto prima andiamo a vedere che davvero è così questa cosa vediamo nel nostro caso se è davvero così andiamo nella cartella dei sorgenti non è la stessa cosa perché questa volta è ancora più semplice perché questo è un è un progetto che è fatto di un modulo eseguibile e un modulo libreria ma in generale questo è il cmake list radice essendo la radice è un cmake che questo insomma serve è un cmake che deve soltanto dire come è fatto il progetto quindi è un progetto che si chiama così ed è fatto dai seguenti moduli è una lista quindi aggiungi modulo alib ognuno di questi deve essere una directory quindi per soscura directory c'è una ad sub directory ok abbastanza semplice no questi sono i moduli del progetto ok andiamo avanti nelle slide adesso qui si dice vogliamo scrivere cmake list di un programma composto da alib e client abbiamo visto già come si make list radice come facciamo però a fare una cosa un po più carina del tipo se il link è statico io stampo l'hello world con static library se il link è dinamico con share the library e in più devo anche dare la possibilità al configuratore quindi chi invoca cmake di spuntare la casella share libs oppure no perché abbiamo visto che ci sono vantaggi e svantaggi nel link statico e dinamico innanzitutto quanti make list servono per fare questo progetto è un progetto formato da un eseguibile e una libreria ne servono un per l'eseguibile uno per la libreria e sempre uno per la radice che dice come è fatto tutto il progetto quindi in totale 3 ok abbiamo visto fino adesso il la radice di questi tre cioè questo ok quello che dobbiamo vedere adesso è questo della libreria e questo del modulo cliente pronti non vi spaventate se non ci fosse stato windows sarebbe stato molto molto più semplice allora a una cosa voi non dovete imparare questo io vi darò i progetti vi darò dei prototipi di progetti con interfacce grafiche quindi e anche se dovete usare i grafi i prototipi di progetti che usano sia la libreria per l'interfaccia grafica sia la libreria per i grafi quindi io vi darò già i cmake ok tipicamente 99 su 100 nessuno li modifica quelli che io gli do perché non è a necessità e se lo fa comunque in supporto lo fornisco quindi non vi chiedo di imparare queste questo nuovo linguaggio però di essere coscienti perché un giorno potrebbero chiedervi sicuramente di usarlo il cmake quindi potete anche non sapere come è scritto però dovete sapere usare il tool quello sì lo dovete sapere usare il tool quello grafico sapere come si scrivono è un po più avanzato a un livello un po più avanzato e vi faccio vedere ve lo spiego oggi poi non ci torno più beh no ci tornerò con qt però non pretendo che voglio impariare ok per curiosità se voi vedeste gli equivalenti di make file di questi molto molto più complessi quindi siamo dentro la libreria e come sempre dobbiamo raccogliere tutti i sorgenti quindi file raccogli tutti i sorgenti e li metti dentro un contenitore che si chiama alib sorgenti vogliamo adesso definire un'opzione per consentire all'utente di dire vuoi collegamento statico dinamico e quindi guardate opzione parentesi la chiamo shared libs potevo chiamarla pippo è quello che apparirà a video scusate la queste come appare a video queste come la chiamo io nel mio flusso di descrizione del progetto che questo è il valore di default off off significa che appunto è un flag booleano disattivato ora ragazzi attenzione quello che stiamo per fare qui non è un flusso questo non è un linguaggio procedurale linguaggi procedurali lo dice il nome sono procedure cioè l'esecuzione avviene passo dopo passo dopo passo questo è un linguaggio dichiarativo dichiarativo significa che non è detto che non c'è un flusso voi dite le cose un po come vi pare non c'è un ordine avrei potuto anche queste cose metterle sopra non è importante è descrittivo state descrivendo un oggetto non state dicendo non state non state scrivendo le istruzioni per fare il caffè quello è un algoritmo con una procedura questo è una descrizione la descrizione è libera quindi esiste un'opzione che dice di default off poi se l'opzione è attivata io cambio il linking type cioè il tipo di collegamento e ci metto shared si significa che il link type è una variabile che io inserirò quando creerò la libreria e servirà per dire crea una libreria chiamata lib valore di questa variabile quindi shared se è shared static sei stati con tutto qua e se il questa è falsa quindi link è statico io definisco una cos'è questo meno di alib static meno di è la definizione di una è il pre processore ve lo ricordate il pre processore fa trova e sostituisci quindi significa che al pre processore diciamo che dove trova alib static ci mette uno cioè è una cosa che questa in realtà è una è una è una variabile di pre processore che esiste si testa l'esistenza tipo if defined if not lo vediamo adesso nel codice questa cosa qui serve per windows risolve un bug bisogna dire se il tipo di link è condiviso bisogna dire anche di creare punto lib perché windows la pensa diversamente vuole sia lib sia la dll e questo è windows a questo punto poi aggiungiamo la libreria la chiamiamo come ci pare se ne freghiamo della convenzione vi ricordate ieri è però linux vuole la convenzione che deve essere lib se siamo su linux verrà creato con quella convenzione se siamo su windows no quindi vedete come ci possiamo disinteressare dei dettagli quindi creiamo una libreria a partire dai sorgenti che abbiamo raccolto in precedenza e di tipo shared o statica a seconda che l'utente abbia cliccato o no la spunta se non ci fosse stato se non ci fossero i commenti che inserite per voi ma di no ma non ci sono e se non ci fossero state questa riga quante righe sarebbe stato sto questo file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 per creare un modulo libreria a partire da anche 100 fa esser genti potevano essere anche 100 non cambiava nulla con in più la creazione di un opzione per il link statico dinamico gestita dall'utente nove righe non mi sembra un brutto di risultato passiamo adesso al modulo eseguibile ammazzo quattro righe sì ok per questi non l'arri risolventati che si potrebbe anche da un'altra parte o no bisognava metterlo solo in caso di link condiviso no perché allora è proprio questo il problema in windows il file.lib se il link è statico significa una cosa se il link è dinamico significa un'altra quindi questo è come dire a te windows ti sto dicendo che il link che devi creare un lib per dinamico lo so che è uno scevellamento e che ha proprio due significati diversi windows il lib nel caso statico contiene si contiene proprio tutto il codice nel caso dinamico ci deve stare comunque un lib che contiene la definita dichiarazione dei simboli cioè windows pretende che ci sia una tabella di simboli nel lib anche se la libreria dinamica lo so che è assurdo invece nella convenzione posix la tabella di simboli è definita all'inizio del file shared object qui sta dentro la libreria dinamica come giusto che sia sta tutto in un file invece linux in windows due file per una libreria 1 è discutibile con approccio però capite che questa è una realità ragazzi qua stiamo parlando di windows 2000 tutto questo viene da windows 2000 quindi ho vent'anni che funziona così oppure gli shared object hanno tanti anni però quelli sono stati concepiti bene quindi nessuno li cambia questo invece per motivi di retrocompatibilità io ammiro windows perché windows è l'unico sistema operativo che garantisce la retrocompatibilità con dei limiti però davvero ce l'ha la retrocompatibilità il vero motivo per cui windows è così a volte un po instabile non certo nelle ultime versioni pesante anche come gigabyte che deve far funzionare tutto tutti i programmi vecchi programmi nuovi pc vecchi pc nuovi non è facile fare una cosa del genere è un grande sforzo di quindi loro proprio non possono farle non possono cambiarle queste cose anche se sono cose brutte se le cambiassero è come la banca io cambio e poi che fa butto via tutto il passato no non si può fare ok ci make list dell'eseguibile e beh mi pare molto semplice ragazzi più semplice di così sfido a farlo voi raccolgo tutti i file devo siccome io sto usando una libreria che vi ho detto se uso una libreria devo accedere a ieder di quella libreria quindi questo significa includi la directory della libreria così che tu potrai accedere a quei header aggiungi un eseguibile lo chiamo client a partire dai sorgenti che raccolto prima e devi fare link perché questo è un eseguibile che ha un linking quindi linka l'eseguibile client alla libreria lib o più semplice di così linka tizio coccaio e se le librerie fossero state 10 linka tizio con caio sempronio eccetera eccetera l'ordine lo decide ci make uno dice è però insomma e se sto usando qt e le librerie consistono in 100 file di libreria che devo scrivere qua 100 file di libreria no perché in quel caso esisterà una variabile tipo tutti i libraries che è una lista di tutti i file di libreria che voi inserite qui infatti quello faremo con tutti diremo tutti qualcosa non sarà una riga lunga quindi a me pare che questa è la cosa più semplice che possa che possa esistere ok proviamola in realtà l'abbiamo già approvata vedete perché la vuoi provare perché adesso prendere cose più interessanti proviamola in caso dinamico quindi andiamo a vedere se davvero funziona questa questo link dinamico statico a seconda dell'opzione grazie hai ragione perfetto e quindi adesso mi conviene fare un 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 make clean che significa pulisci tutto perché sto per dire guarda adesso voglio un link dinamico quindi faccio make subito e vedete che ha creato mentre prima aveva creato la libreria lib alib.a tra l'altro ci ha aggiunto il lib perché lui sa che sta sulla convenzione posix adesso ha creato lib alib.so però immagino che ci sia sempre lo stesso problema devo farlo qua ok immagino che ci sia sempre il solito problema no mazza non me lo aspettavo nemmeno io sinceramente ma davvero come è possibile ragazzi evidentemente l'ha fatto io ogni anno aggiorno cmake cmake va avanti aggiungono un sacco di funzionalità forse ma forse hanno aggiunto la funzionalità quale che se io faccio un link a quella libreria e se la libreria è locale cioè non è di sistema va anche a inserirlo ma come è possibile non ci credo inizio è penso che abbia ragione ma è vuota no no è vuota non c'è questa è una nuova console non ha memoria quella era un'opzione locale di quella sessione ha fatto qualcosa ragazzi non saprei dirvi come come ha fatto ma è proprio questo il punto che noi non ci interessa essendo uno strumento che promette di fare le cose in maniera automatica l'ha fatto meglio così fatemi vedere come da dove le piglia altro ldd non ho detto cos'è ld sta per l'order ldd sta per l'order dependencies cioè quali sono le dipendenze del caricatore se caricasse questo modulo lo prende o lo prende dal punto giusto e quindi sa dove prenderlo la fatta che vi devo dire e bene siamo su linux a questo punto io penso su linux no bello lasciamo potrebbe servirci dopo andiamo su windows e vediamo si può fare un clean esiste anche qua il clean si è importante fare clean perché dobbiamo cambiare qualcosa di grosso stiamo per cambiare l'opzione di compilazione quindi configure generate infatti dice vedete questo momento quando noi cambiamo qualcosa lui ci avvisa l'ambiente di sviluppo è proprio quello che vi dicevo e quando vi da questo warning dovete essere contenti significa che si sta aggiornando e dovete dirgli sì anzi anziché dire ignora dovete dire sì ok aggiornati vediamo vediamo se esegue ho paura che qui manchi la dll ok no stavolta non l'ha aggiunto a parte di sistema dice che manca dell l e crash crash perché manca dell l ma è giusto è giusto così andiamo a vedere che sta succedendo di vedere che cosa ha costruito ha costruito scusate da qualche parte qua deve aver messo dove l'ha messa messo qua ok in alib ha messo ok guardate tre file scusate crea windows è vero c'è pure la file exp ha creato la dll in più ha creato la lib è creato pure l'ex quindi tre file a fronte di uno solo però la dll la crea l'importante che l'importante è la dll ai fini dell'esecuzione l'importante è la dll quindi significa che noi dobbiamo adesso dire al nostro sistema operativo dobbiamo dire che adesso esiste anche questo percorso dobbiamo dire che tra tutti i percorsi in cui cercare le librerie dll eseguibili devi aggiungere anche questa schifezza qui a questo punto mi aspetto che navigando nell'eseguibile adesso dovrei poterlo eseguire si ha funzionato il problema che non c'è nessuna non c'è nessuna pausa quindi vabbè però è giusto verificarlo però ha funzionato e vedete hello from alib fu share the library del resto va bene così non serve fare altre considerazioni su mac è tedioso farlo andiamo avanti ok domande fino adesso quindi test superato anche il link dinamico ma è questa la cosa carina cmake può fare molto di più che tradurre automaticamente il programma come abbiamo visto a partire dalla descrizione testuale ovvero grazie a cpac che fa parte della suite di cmake quindi comunque fa parte dello stesso pacchetto che che voi installate noi fino adesso dov'è che ci siamo fermati ci siamo fermati qui abbiamo creato a partire dalle descrizioni testuali e del progetto dei nostri sorgenti abbiamo creato i file di progetto video studio eccetera cos'è questo generated source files ve l'ho detto prima oltre ai file sorgenti nostri ci sono i file sorgenti temporanei del progetto ecco perché è bene separare due cartelle in cui ti lo vedremo questo poi ci sono i file oggetto che da qualche parte li mette e poi ci sono i file finali che mette da qualche parte però guardate una cosa c'è un install time e c'è un sipac time e c'è un package install time in più che significherà mai questa cosa ora ve la faccio vedere in diretta intanto devo precisare che per abilitare questa ulteriore opzione serve serve anche un ulteriore sta nella slide penso sta nella slide si serve aggiungere qualcosa al modulo eseguibile cioè il modulo che sarà quello finale quello che vogliamo distribuire all'utente se vogliamo fare un altro passo forse state cominciamo a capire qual è questo passo e dire dove andare a mettere i file quindi targets e destination sono delle delle cose che appaiono a tempo di cmake quindi tipo prima pariva user local dove vogliamo andare a installare l'applicazione ma se andiamo ulteriormente avanti non ci interessa inserire qua dei valori perché sarà l'utente finale ma proprio finale non lo sviluppatore a dire dove installare come possibile tramite un pacchetto di installazione quindi dovremo creare le versioni un versionamento perché se stiamo installando un pacchetto che siamo su windows che siamo su linux tramite apt o sul mac os tramite homebrew quando si installano i pacchetti le versioni sono importanti perché bisogna sapere qual è la versione di quello che si sta installando quindi dovete specificare la versione major minor e patch che cosa sono nel gergo della programmazione major significa proprio quando c'è un cambiamento epocale che ne so windows 2000 windows xp windows 2007 windows 2008 windows windows 8 windows 10 major la versione proprio cambiamento epocale minor significa hai aggiunto delle funzionalità però la versione più o meno quella è non hai stravolto patch serve tipicamente per i bug quindi hai corretto un bug punto 1 un altro bug punto 2 a volte fosse voi trovate punto 1240 significa che sono stati fatti 1240 correzioni di bug tra l'altro queste cose avvengono anche nel mercato nell'epo store nel google nel play store se voi andate a spulciare quando state aggiornando un'applicazione c'è scritta la versione la versione tipicamente segue questa convenzione major minor patch ok da lì vi rendete conto anche quanto ci lavorano le persone anche se c'è da dire che è un po soggettiva la cosa cioè esistono dei programmi molto utilizzati che stanno ancora la versione 0 però è 0.9.999 qualcosa così come esistono altri programmi come fare fox che sono curioso a questo punto di sapere a che avessero arrivato 70 si è lo dici lo sviluppatore perché come ho detto fare fox o io io sono curioso fare fox addirittura esiste un articolo sulla history delle versioni no non ci credo io l'anno scorso sparato 60 allora siamo arrivati all 81 ora perciò dico che questa cosa a volte viene abusata cioè dovrebbe essere un cambiamento proprio grosso io fare fox un ottimo browser però da qui a dire che ci sono 81 versioni major di fare fox insomma ci credo abbastanza poco vediamo di chrome di chrome professore ci sta un giro apposta dove è possibile visualizzare update no non qua però ci sta proprio un giro apposta dove gli permette di vedere tutte le informazioni penso che chrome andiamo peggio vabbè si copiano un po ai ragazzi che la me sa bene è una questione di marketing cioè se io dico fare fox 95 95 sono come windows fare fox 85 ok che google 5 è questione anche di marketing si devono battagliare tra di loro però ragazzi insomma possono mai esistere però comunque vedete 4240 significa che hanno fatto 4240 bug fixes capita capita chiaramente non tutte versioni vengono rilasciate cioè il fatto che voi non non è detto che 4240 significa che sono state rilasciate 4240 diverse versioni perché magari loro hanno una procedura sicuramente hanno una procedura di insomma di test e di release cioè se una cosa davvero funziona loro vanno avanti la rilasciano se non funziona tornano indietro fanno un'altra release e così via quindi magari si salta come in questo caso dalla non lo so però si potrebbe esaltare da da x a x più 100 perché nel frattempo ci sono 100 iterazioni di bug fix all'interno della factory di google che fanno queste cose ok è una scelta cioè probabilmente o lo fanno per nascondere il fatto è un po brutta la cosa di questo numero è brutto perché ti fa capire quanto in realtà più alto meglio è però fa capire quanto lavoro c'è stato perché 4240 mi fa capire che c'è stato di tanto lavoro ma se fosse punto 5 bug punto 5 mi fa capire che hanno fatto 5 bug fix significa che ci lavorano pochi forse ci lavora una sola persona a questo progetto quindi a volte si offusca a volte si decide di non mostrare questa cosa all'utente è una decisione basta mettere punto zero e di fatto si offusca si nasconde ok non lo so adesso perché questo è rimasto punto zero comunque sono scelte soggettive l'importante torniamo a noi è quello di doverle inserire perché stiamo per creare un installer per creare l'installer basta dire include cpac vediamo se siamo su siamo su windows siamo su viso studio dobbiamo sembra strano compilare il progetto package significa che dobbiamo creare l'installer e creare l'installer significa che adesso da qualche parte nella cartella principale è stato creato un installer ovviamente io nel cmc file avrei potuto dire la licenza prende prende da qui da un file di licenza che ho scritto io il percorso di default mettilo in non lo so cioè ci sono una serie di altre opzioni che io non ho messo questo quindi è il set minimale di istruzioni per creare un installer però infatti vedete la licenza è vuota si poteva mettere la licenza e questo è il percorso predefinito siamo su windows lo mette qui ovviamente questo è un programma stupidotto che avrà messo non mi ricordo se era x86 oh non mi ricordo dove l'ha messo qua l'ha messo perfetto c'è addirittura l'uninstaller mazza proprio avanzatissimo anche il fatto come è fatta la cartella dove si trova il progetto dipende come avete scritto voi nel cmc quindi non voglio mentirvi è vero che qua ci sono poche righe di codice per creare quell installer se volete creare un installer che fa qualcosa di più che mostra un luogo diverso che crea una gerarchia di cartelle dentro la cartella di destinazione dovete aggiungere qualche opzione in più chiaramente non si può avere a gratis dal cielo le cose vi faccio vedere un esempio di installer creato per questo corso me ne hanno dato uno per super mario a capire però dove l'hanno messo faccio prima fare super mario no io ce l'ho l'installer ve l'ho dato a voi scusate che sto stupido l'installer ve l'ho dato no? google drive classroom tecniche di programmazione applicazioni svolte negli anni precedenti eccolo qua gli studenti di questo corso hanno creato un installer che tra l'altro è diverso da quello di prima è da una grafica diversa avranno usato un altro sistema di packaging quello di prima doveva essere penso nsys questo è il sistema di packaging ufficiale di windows non lo so ragazzi hanno usato un altro sistema basta aggiungere una riga al cmc list installation folder super mario boss 3 ma non è che ce l'ho già però che se ce l'ho già è un po' brutta la cosa eh vabbè ne creiamo un altro copia che ne so addirittura hanno messo le opzioni quindi boh potevo chissà selezionare i moduli dell'applicazione vabbè hanno voluto qua scherzare ragazzi ci avranno messo un testo preso da internet ovviamente questo non è una vera licenza e questo è la shortcut vedete che sta facendo delle cose non è come prima ah non ha funzionato vabbè ragazzi adesso non so perché non ha funzionato però l'idea era buona l'altra volta mi ha funzionato me l'ho installato andiamo a vedere dove l'ho dove l'ho messo eh vediamolo in questo non copia eh guardate ragazzi che cosa è andato a creare la prima volta che l'ho installato è andato bene adesso non so perché non è andato bene guardate quanta roba che c'è qua ma secondo voi ragazzi si sono messi a creare questo albero entry per entry cosa avranno detto i ragazzi avranno detto nel cmake guarda io sto creando un installer però voglio che la mia applicazione funzioni anche se non c'è Qt installato nel sistema quindi voglio distribuire la mia applicazione insieme a tutte le dipendenze e quindi avranno detto mettici Qt ma mettici Qt non è è una riga di codice mettici Qt lo vedremo poi come si può fare e quindi ci ha messo tutte queste dipendenze di Qt ci ha messo altre librerie c'è addirittura un maintenance tool addirittura posso aggiornare le componenti no vabbè non si può fare e poi chiaramente questo perché funziona questo funzionerebbe anche sul vostro computer anche se voi non avete installato Qt perché questo è stato fatto con un installer che si è portato dietro tutte le dipendenze guardate che bene non c'è soltanto Qt qua dentro c'è anche questo questo è Microsoft Visual CP14 14 sta per Visual Studio 2015 quindi questa è la libreria probabilmente del C++ di Microsoft Visual Studio per Visual Studio 2015 cioè si è portata dietro addirittura si è portata dietro OpenGL perché vedremo che Qt si poggia su OpenGL per fare il disegno si è portato in runtime questi sono i distribuibili di Visual Studio si è portato altre librerie si è portato cose che nemmeno i ragazzi conoscono si è portato questi sono praticamente dei driver audio che fanno comunicare Qt con il sistema operativo ragazzi si è portato un sacco di roba in maniera del tutto automatica e alla fine lo so che volete più gioco però abbiamo già visto l'altra volta tutto funziona perché si è chiuso il ciclo c'è qualcosa? non c'è niente devo premere reset per ricominciare ok? quindi ragazzi abbiamo chiuso il cerchio perché siamo arrivati a questo punto? siamo partiti da usavate clips e call me in GV funzionava solo lì da adesso un'altra parte adesso siamo in grado di scrivere siamo in grado comunque vi ho dato gli strumenti chi vuole può approfondirlo siamo in grado di generare non solo progetti compilabili ma addirittura installer a partire dai sorgenti cioè praticamente ragazzi è un grande salto dai sorgenti all'installer ed è così che fanno le release quindi adesso io ho fatto le release faccio una release per macOS faccio una release per Linux faccio una release per Windows lo stesso software lo stesso applicativo lo posso distribuire su tre piattaforme infatti volendo avrei potuto compilare Super Mario per Windows per Linux e per macOS ovviamente uno per ogni piattaforma chiaramente l'installer così funziona bene oggi andiamo un po' più avanti non tanto facciamo un cenno di qualcos'altro ok? domande su questo? sì una domanda basta andare a vedere dipende da dipende da allora se l'eseguibile è stato compilato con link statico l'eseguibile contiene già tutte le librerie quindi l'eseguibile è gigante e quindi l'installer non distribuisce le librerie perché le librerie stanno dentro l'eseguibile la domanda forse ho capito è più sottile è interessante perché c'è un problema di licenza qua cioè se io uso il link statico le librerie stanno dentro il mio eseguibile quindi non le sto distribuendo sono nascoste e quindi non ho non devo includere anche la licenza della libreria ma se invece come in questo caso sto distribuendo le librerie devo anche e i ragazzi non l'hanno fatto ma lo dovrebbero fare se volessero non so venderlo ma anche solo metterlo a disposizione in download dovrebbero distribuire anche la licenza della libreria è vietato distribuire una libreria senza licenza quindi in quel caso bisogna anche includere le licenze della libreria questo però è un caso in cui il link è dinamico si vede chiaramente voi dite come mai non hai aggiunto il percorso al path di sistema perché guardate un po' queste DLL stanno accanto all'eseguibile quindi è una cosa che si riscontra anche nelle applicazioni che scaricate che installate oltre all'eseguibile ci sono anche delle DLL accanto a lui a esso quindi l'eseguibile quando viene lanciato il sistema operativo guarda dove si trova l'eseguibile trova le DLL le carica se tutto va bene non si lamenta altrimenti dice missing DLL missing quindi è buona norma cioè buona norma gli installer su Windows di fatto mettono le DLL accanto all'eseguibile su Windows su macOS è tutta un'altra storia che non vi sto a raccontare perché complicherebbe tantissimo su macOS ci sono i bundle è un pacchetto che contiene i seguibili le librerie i framework è tutto molto più strutturato mentre su Windows schiaffa tutti i file in una cartella e funziona su Linux più o meno la stessa cosa però un po' più elegante perché in Linux c'è più controllo Linux non consente il motivo per cui voi dovete aggiungere i path manualmente su Linux oppure se c'è uno script lo fa lo script però dovete dargli ecco quando voi scaricate un'applicazione su Windows su Linux tipicamente dovete lanciare uno script che aggiungerà il percorso delle librerie al vostro sistema e vi chiederà i diritti per far girare questo script vi dice tu non hai diritti quindi vuole la password di amministratore Linux da punto di vista di sicurezza è sicuramente un passo avanti cioè le cose non avvengono da sole come qui ho installato e va tutto in automatico addirittura alcuni installer hanno l'opzione lancia l'applicazione alla fine dell'installazione e quella viene lanciata quindi praticamente l'utente ha scaricato un installer ha premuto avanti e si è ritrovato il programma già aperto senza senza nessun intermediario di sicurezza che invece c'è in altre piattaforme questo è anche il motivo per cui Windows ha problemi di sicurezza ok va bene quindi dai sorgenti all'installer quindi voi potete se volete non è obbligatorio per l'esame non tutti mi hanno dato l'installer potete generare l'installer se ci mettete anche le licenze lo potete mettere su internet e che ne so fa curriculum fate scaricare all'esaminatore se si diverte se gli piace giocare al vostro gioco o alla vostra applicazione ok bene esercizi beh l'abbiamo fatto scrivere un cimiclist per tutti i programmi sviluppati fino ad ora tutti quelli che avete fatto in realtà non ha senso per quelli che verranno perché saranno complessi quindi useremo cimic in maniera abbastanza lo useremo tanto per per tutti ok bene abbiamo un quarto d'ora prima niente perché abbiamo iniziato in orario e non posso iniziare la ricorsione non posso non posso assolutamente iniziare la ricorsione in un quarto d'ora è un argomento troppo troppo complicato e allora direi di cavarcela con un breve ripassino proprio un quarto d'ora di relax quindi state tranquilli un ripassino di programmazione procedurale oggetti diciamo soltanto due tre cose probabilmente vi annoierò sono cose che già sapete benissimo però serve per riempire questo questo quarto d'ora che si è che si è creato quindi ok bene intanto diamo un senso a a una parola che diciamo spesso in questo corso paradigmi di programmazione è una cosa che già ho detto il paradigma ad oggetti il paradigma concorrente il paradigma ad eventi il paradigma procedurale il paradigma dichiarativo le due macro famiglie di paradigmi di programmazione è paradigma è sinonimo di filosofia cioè sono due approcci diversi alla programmazione sono la programmazione imperativa e la programmazione dichiarativa la programmazione imperativa è quella tradizionale tra virgolette cioè quella che siamo abituati dal corso di fondamenti lo dice la parola imperativa imperativa do dei comandi ok quindi specifico come le cose devono essere fatte cioè sto dando una soluzione ad un problema quindi la programmazione imperativa si usa per implementare soluzioni di problemi si usa per dare dei comandi e infatti i verbi sono all'imperativo tutti i linguaggi imperativi dicono for do read print c out sono comandi no ci fate caso sono tutti i comandi si si preoccupa di come risolvere il problema questo ve l'ho detto ok è centrale il concetto di variabile di locazione di memoria quindi la programmazione imperativa è quella più vicina al calcolatore anzi è l'unica il calcolatore è programmato in maniera imperativa perché il linguaggio macchina è una serie di istruzioni di comandi che dicono prendi il dato che sta in questo indirizzo della RAM trasportalo nel registro tal dei tali prendi quest'altro dato in quest'altro indirizzo della RAM trasportalo in un altro registro fai la somma e mettila in un terzo registro questo risultato adesso lo metti in quest'altro indirizzo della RAM e hai fatto la somma di due elementi sono tutti i comandi tra l'altro sono un po' più complessi di così perché ci sono concetti di calcolatori di architetture di calcolatori se siete interessati nel corso di architettura dei calcolatori sono tutti i comandi quindi se noi programmiamo noi in maniera imperativa stiamo parlando più o meno allo stesso dialetto del computer è un linguaggio ad un livello diverso però è quello quindi riusciamo a dire questa è una variabile che sta nella memoria a questo indirizzo addirittura in cpp ci sono i puntatori e i puntatori vi dicono proprio dove si trova in che indirizzo si trova quell'oggetto la programmazione dichiarativa invece in realtà voi l'avete già fatta la programmazione dichiarativa solo che non lo sapete forse lo sapete forse no la programmazione dichiarativa risponde alla domanda cosa vuoi risolvere quindi mentre la programmazione imperativa risponde alla domanda come come quindi istruzioni cosa significa ma qual è il problema quindi la programmazione imperativa risolve il problema la programmazione dichiarativa specifica il problema e chi lo risolve è uno strumento informatico mi fate un esempio non quello di oggi ovviamente perché lo è anche quello di oggi di programmazione dichiarativa cioè in cui voi dite qual è il problema e c'è qualcuno un software molto molto complesso che lo risolve per voi pensateci l'avete fatto sicuramente ci avete fatto un esame se non so non lo so non lo so vabbè aspetta perché ce ne sono due se non sbaglio non lo so non ne ho idea da casa da casa da casa da ufficio da dove sono dalla macchina dalla cantina ci avete fatto un esame e se quelle no è vero voi ho capito il problema scusate guardate più dichiarativo di questo è vero create sembra un comando avete ragione però permettetemi di dire che questo non ha nessun non ha un equivalente nella memoria nella ram cioè questa non è una tabella un array bidimensionale voi state dicendo io voglio una tabella che ha queste colonne fatte in questa maniera e poi addirittura quando fate proprio la query la query io voglio queste informazioni prese da lì prese da lì con questi criteri pensaci tu è quel pensaci tu che state interrogando in quel momento uno strumento che si chiama DBMS quello strumento interpreta quello che avete scritto e cerca di risolvere il problema cioè ragazzi penso che l'avevamo accennato Marrocco dietro questa select ma avviene un putiferio penso io ho fatto tre corsi di basi di dati avviene un putiferio da studente un putiferio di cose cioè gli algoritmi le strutture dati usate per interrogare una base di dati sono complessissimi quindi è davvero un problema enorme però voi non siete interessati a come questo problema viene risolto voi siete gli utenti e questa è la differente prospettiva la programmazione dichiarativa in un certo senso siete sì dei programmatori ma siete anche soprattutto degli utenti di un sistema altro esempio HTML HTML qualcuno di voi magari ha scritto ogni tanto una paginetta che ne so body paragrafo chi è in quel caso lo strumento che si occupa di fare grosso del lavoro è il browser il browser traduce la vostra specifica è una specifica visibile visuale grafica della pagina in grafica quindi se voi volete un pulsante vi crea il pulsante questo significa programmazione dichiarativa io voglio questo il cosa questo questo e quest'altro voglio una tabella voglio queste informazioni io voglio e poi c'è il programma che c'è un motore che gira e vi soddisfa la richiesta invece la programmazione imperativa non c'è io voglio c'è io faccio ecco il diverso punto di vista altri esempi di programmazione dichiarativa per esempio quest'anno non lo facciamo mi divertivo gli anni precedenti a fare cose abbastanza strane in programmazione logica in prolog in cui creavo delle relazioni tra entità e poi interrogavo dicendo per esempio trovami i cugini trovami cose un po' strane o addirittura è possibile per esempio fare degli indovinelli cioè crea una specifica di un indovinello e dico la macchina per esempio questo è famoso non so se lo conoscete indovinello è chiamato indovinello di Einstein ma non ha a che fare con Einstein in cui si si rendono una serie di regole e condizioni e e si dice chi possiede il pesce rosso quindi bisogna un attimo pensarci mentalmente ognuno ha il suo metodo di risoluzione di risoluzione se questo lo specificate in prolog il prologo vi dà la soluzione è un linguaggio dichiarativo quindi descrivo il problema interrogo il sistema il sistema mi trova la soluzione ok però la stessa domanda che ho fatto all'inizio di questo corso ma questo a che serve serve per esempio per dimostrare algoritmi scusate per dimostrare teoremi si usa in matematica i matematici spesso usano può capitare che usino questi questi sistemi serve per intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale pure fa uso di questo tipo di programmazione non è detto però penso l'intelligenza artificiale quella dei videogiochi quando gli agenti gli agenti che si muovono in uno spazio potrebbero usare questo tipo di programmazione e vabbè però queste sono cose un po' più un po' più esotiche questa era la cosa che ci tenevo dirvi oggi prevalentemente questa differenza CMake perché CMake ricade nella programmazione dichiarativa perché è sempre la solita storia io dico cosa voglio voglio un progetto voglio un eseguibile l'eseguibile lo voglio collegato a questa libreria la libreria la voglio collegata in maniera statica nella libreria ci sono questi file pensaci tu a mettere tutto insieme e non è facile perché bisogna vedere l'architettura i comandi i file di oggetto fpick vi ricordate su linux bisogna mettere meno fpick però quando manco io me lo ricordo position independent code oddio se shared altrimenti no ci pensa CMake ecco c'è uno strumento che ci pensa a risolvere il problema che voi descrivete con la programmazione dichiarativa ok quindi programmazione dichiarativa quest'anno io avevo dei cenni anni precedenti quest'anno io ho dato proprio dei cenni dei cenni ma non ci serve non ci serve nel nostro nel nostro corso a parte che l'abbiamo fatta perché CMake è un linguaggio dichiarativo per quanto riguarda la programmazione imperativa veramente insomma cinque minuti ma sono cose che sapete forse vi do qualche ceno storico magari che potrebbe essere sfuggito nei corsi precedenti ragazzi la programmazione è nata negli anni sessanta ed era tutta quanta programmazione non strutturata che significa non strutturata era come l'assembly se noi in un certo senso se noi ripercorressimo i linguaggi da alto a basso livello avvicinandoci sempre più al calcolatore fino a parlare linguaggio macchina in un certo senso stiamo anche percorrendo la storia della programmazione a ritroso perché la programmazione agli albori della programmazione era fatta in linguaggio macchina poi si è capito che più saliva la complessità dei programmi che ci preda troppo tempo allora mano a mano si è giunto un livello strutturale sempre superiore e quindi sono nati quelli che noi oggi diamo per scontato cioè il ciclo la selezione if è la sequenza di operazioni sono un'invenzione noi lo diamo per scontato è naturale testare una condizione a destra a sinistra if else prima non era così prima era un tutto salta qui salta lì salta lì era tutto un saltare infatti si chiamava lo stile di allora spaghetti code cioè un piatto di pasta di spaghetti in cui tutto è intracciato con tutto e non si capisce niente e allora nacquero queste strutture e fu dimostrato matematicamente logicamente in realtà questa è logica che un qualunque programma qualsivoglia compresso può essere implementato utilizzando solo queste tre strutture cioè la sequenza di operazioni la selezione cioè la condizione e l'iterazione cioè il ciclo queste tre strutture da sole vi consentono di fare qualunque programma senza la necessità di usare i salti incondizionati salti incondizionati che ancora esistono oggi nel linguaggio e in cpp si chiama go to vai all'istruzione tal dei tali ma esistono anche in altri linguaggi a me fu detto da studente il primo giorno di fondamenti di informatica la prima lezione la prima ora del primo giorno entrò il professore e mi disse e disse con tono minaccioso chi di voi usa salti incondizionati all'esame lo boccio ok e allora tutti quanti noi perché siccome questa istruzione c'è uno è tentato a volte di usarla potrebbe essere tentato di usarla e vabbè ci fece fare diagrammi di flusso lì all'esame veniva proprio richiesto di fare diagrammi di flusso prima ancora bisognava fare diagramma di flusso e poi il codice invece penso che voi a fondamenti non fate diagramma di flusso fate il codice no la bisognava passare prima del diagramma di flusso con tutte il rombo che è la condizione tutte le freccine due scatole ok adesso che però io un po' di esperienza ce l'ho non è vero che i salti incondizionati non si possono usare assolutamente ci sono situazioni in cui si possono usare e queste situazioni si chiamano gestione delle eccezioni e programmazione ad eventi cioè nella programmazione ad eventi è come se si usano i salti perché nel verificarsi di un certo evento un evento che magari è una rottura un funzionamento non previsto del codice bisogna saltare avanti è come se bisogna saltare avanti quindi i gotoo ci stanno sono offuscati dalla gestione delle eccezioni ma di fatto la gestione delle eccezioni è implementata attraverso dei salti quindi quindi non è vero non è vero che i salti incondizionati non si usano e vabbè poi nella storia della programmazione ma abbiamo finito il tempo sono state introdotte sempre più strutture quindi l'extract variabili strutture dati le funzioni le procedure quindi raggruppare le istruzioni in procedure input output e poi la programmazione oggetti che però avete fatto un intero corso su questo ragazzi in questo corso con questo chiudo la lezione di oggi la programmazione degli oggetti si impara per esperienza perché ne faremo così tanta la programmazione grafica è uno dei migliori esempi didattici per apprendere la programmazione oggetti perché tutto oggetto l'oggetto pulsante l'oggetto etichetta l'oggetto barra l'oggetto finestra è tutto un pluriferare di oggetti che tra l'altro devono comunicare tra loro questa è la cosa che lo rende davvero programmazione oggetti perché la programmazione oggetti non è soltanto una serie di oggetti che sono per cavoli loro ma che comunicano tra di loro la comunicazione è quella che la rende davvero OOP oriented programming oggetto oriented programming bene come promesso vi saluto saluto ragazzi a casa interrompo la registrazione ragazzi che seguono online non è detto a casa grazie grazie grazie